Siamo pronti? Aspetta, aspetta, aspetta! Ragazzi bisogna fare una presentazione come allo stadio Come allo stadio Partiamo da chi? A Pauzì che lo vedo già pronto Adesso tutti, anche quelli che sono là in fondo Tutti con tutto il centro commerciale Qui quest'oggi Da Aronics, gruppo Tussano Con il numero 31 Pauzì! 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 I Vosi del Napoli Perché c'è una corona C'è un uomo infattibile Che ha un inversore straordinario Che poi anche Nicolino Lui si chiama CaliGiu! Pauzì! 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 Pauzì!